Il Rotary Club Pestum Centenario incontrerà presso la Scuola Media Statale Gino Rossivairo di Agropoli i giovani delle prime classi per parlare di prevenzione dal papilloma virus. L'incontro è in programma per giovedì 12 maggio ed interverranno il professor Nicola Boffa, responsabile struttura semplice a Valenza Dipartimentale di Virologia Clinica dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggero d'Aragona di Salerno. Il dottor Giovanni Genovese, responsabile della unità operativa dipartimentale di sorveglianza sanitaria aziendale della stessa struttura. E il dottor Francesco De Stefano, odontoiatra del Comune Cilentano. Tale giornata, commenta il presidente del Club Rotary, dottor Ignazzo Milillo, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, dei distretti 2080 e 2100 delle Rotary International del Comune di Agropoli e fa parte di una serie di incontri che per tutto l'anno ci hanno visti presenti nelle scuole, offrendo ai ragazzi e gli insegnanti le nostre professionalità e conoscenze, al solo scopo di servire il territorio nella maniera migliore, grazie alla disponibilità e lungimiranza del dirigente scolastico professor Bruno Bonfrisco e dalla collaborazione dell'assessore Francesco Crispino. Il virus del papilloma umano è responsabile del cancro del colo dell'utero, primo tumore riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come totalmente riconducibile ad un'infezione. Non esiste una cura specifica, ma occorrerebbe prevenirlo o diagnosticarlo tempestivamente attraverso l'esecuzione regolare del pap test.